e poi praticamente una volta sento l'odio in cambio devo dare una parte di quello che come si fa adesso come si fa adesso si fa ancora adesso cosa no no e molti frantoi prendono una decima perché poi loro perché poi loro lo rivendono e visto che il vostro pratico